Ciao ragazzi, ti aspetto a Fiera Cavalli, sabato 28 ottobre alle ore 3 e domenica 29 ottobre alle ore 11. Farò due incontri fans, venite a ritirare il nuovo cappellino Teresa e Silvia in omaggio. Faremo tante foto e video insieme, però prima dovete compilare il formo qua sotto, così almeno sappiamo quanti siete. E non dimenticarti, sabato e domenica 28 e 29 ottobre, io vi aspetto, ciao!